buongiorno il titolo della lezione di oggi è bianco come il latte rosso come il sangue i colori del corpo umano e non solo il titolo è una parodia di un famoso recente romanzo da cui è stato tratto anche il film e i colori soprattutto il bianco e rosso saranno il filo conduttore di questa presentazione la colorazione esterna che hanno gli animali è molto importante nei confronti di individui della stessa specie o di altre specie pensiamo a meccanismi di riconoscimento di richiamo sessuale o di difesa come il mimetismo il colore è dato dai cromatofori presenti nel tegumento oppure dall'effetto combinato di pigmenti e microstrutture dello strato superficiale del tegumento stesso e vediamo in questa immagine un pesce molto alla livrea molto molto colorata e esistono negli animali e i cosiddetti a sangue freddo alcune tipologie di cellule che portano che hanno al loro interno del dei granuli di pigmento il cromatofori appunto sono delle cellule contenenti granule di pigmento colorati che possono spostarsi all'interno della cellula determinando cambiamenti di colore o anche schiarimento oscurimento se questi pigmenti sono sono per esempio la melanina quindi sono pigmenti che danno la colorazione bruno nera questi cromatofori quando contengono appunto melanina si chiamano melanofori nei vertebrati si trovano nel derma di pesci anfibi e rettili e qui vediamo infatti una immagine di una preparazione istologica di pelle di pesce in cui vediamo superficialmente l'epidermide la tasca della scaglia marcata con il numero 6 e il il derma e questo che sto indicando con il mouse e i cromatofori ovvero i melanofori in questo caso sono proprio situati nel nel derma ci sono diversi diversi cromatofori cioè cromatofori di diverso colore il complesso colore nei pesci è appunto dovuto al alla combinazione di cellule pigmentate che riflettono il giallo in questo caso si chiamano xantofori il rosso e ritrofori la luce bianca le ocofori e il il blu e si chiamano xantofori i melanofori invece producono una colorazione nera marrone le cellule pigmentate si espandono e si contraggono con il comportamento dell'animale i livelli di luce e la distribuzione di queste cellule cambia con l'età anche del del pesce nella pelle di uccelli mammiferi non ci sono cromatofori ma melanociti cioè cellule che hanno soltanto melanina e che si trovano negli strati più profondi dell'epidermide quindi in questo caso al contrario di quanto avviene nel pesci anfibie rettili le cellule che portano il pigmento si trovano più superficialmente cioè nell'epidermide sebbene in questa negli strati più profondi la melanina è contenuta in granuli che sono chiamati melanosomi che sono trasportati alle cellule dell'epidermide che sono appunto i cheratinosciti come protezione dai raggi ultravioletti i melanosciti si trovano anche nei follicoli delle penne e dei peli e quindi penne degli uccelli e peli nei e nei mammiferi la vistosa colorazione del piumaggio degli uccelli è data dalla combinazione della melanina con la microstruttura delle fibre di cheratina delle delle penne e una cosa interessante è che nella specie umana indipendentemente dal colore della pelle si trova lo stesso numero di cellule che portano melanina cioè lo stesso numero di melanosciti che sono circa 1200 per millimetro quadrato e in questa immagine vediamo una ricostruzione uno stereogramma di un di una porzione di pelle umana in cui vediamo lo strato superficiale che è l'epidermide lo strato più profondo che è il derma lo strato il più profondo di tutti il rappresentato dall'ipoderma qui possiamo riconoscere il follicolo di un di un pelo e l'emergenza del del pelo se andiamo a focalizzarci su questo quadratino che ingrandiamo andiamo a vedere dove si trovano i i melanosciti si trovano proprio nello strato più profondo quindi a livello del dello strato dei cheratinosciti cioè del delle cellule dell'epidermide che formano una un epitelio pavimentoso pluri stratificato vediamo qua quante file di cellule ci sono i melanosciti sono delle cellule completamente diverse da quelle che costituiscono appunto l'epitelio delle dell'epidermide e sia i melanosciti che i cromatofori come vi stavo dicendo sono un tipo di cellula completamente diversa dal resto delle cellule e hanno anche addirittura una diversa origine embrionale e questo è importante perché sono cellule che derivano da quando si forma durante l'embrogenesi quando si forma il sistema nervoso derivano da popolazioni cellulari che non sono proprio sistema nervoso ma hanno a che fare con il sistema nervoso e che si chiama queste cellule si chiamano cellule della cresta neurale il cambiamento dei colori può essere attuato in in alcune specie come per esempio nei pesci piatti come i rombi e le del sistema endocrino dei granuli di pigmento nei processi cellulari dei melanofori come vediamo in questo in questo schema una concentrazione di pigmenti a livello dei melanofori causa uno schiarimento della pelle mentre una dispersione dei pigmenti provoca un oscurimento della pelle sembrerebbe il contrario ma invece è così si può provare a simulare questo effetto con dei pezzettini di carta colorata su un tavolo simulando proprio lo spostamento dei melanosomi cioè dei granuli di pigmento di melanina all'interno dei melanofori sicuramente fa fa vedere appunto l'effetto di questo di questo spostamento che spesso sotto l'effetto endocrino cioè viene provocato da una reazione dell'ambiente esterno il camaleonte della specie furcifer pardalis è un esempio di come gli animali possano cambiare cambiare colore e della della sorprendente variazione di colore di cui è capace proprio questo questo reptile e in questo caso il colore riesce a cambiare grazie a dei minuscoli cristalli di guanina in grado di assumere rapidamente sfumature diverse questi cristalli sono contenuti in cromatofori speciali che sono chiamati i ridofori che sono presenti in due strati lo stiramento e rilassamento di queste cellule cambiando il colore della luce riflessa consente all'animale di cambiare colore solo i maschi adulti posseggono lo strato superiore di ridofori completamente sviluppato e lo utilizzano non per mimetizzarsi ma per attrarre femmine o per intimidire maschi rivali quando l'animale in uno stato di rilassamento quindi i cristalli sono più ravvicinati questi riflettono luce azzurra la quale a sua volta combinata con i pigmenti gialli della pelle fanno apparire il camaleonte verde lo stiramento delle cellule invece lo spostamento del di questi cristalli di questi micro cristalli di guanina produce una varietà di colorazioni che vanno dal giallo al rosso ma i colori vi ho parlato di quelli esterni e non sono soltanto appunto quelli esterni né nel l'uomo né in altri animali e parlando di colori che sono che si possono trovare come produzione di sostanze a livello del corpo umano ma non solo oppure di caso di del sangue abbiamo la presenza appunto di un colore rosso quindi bianco e rosso come due materiali che possono essere considerati a livello di sostanze nutritive quindi di nutrimento ma sono sostanze completamente diverse intanto vediamo da che cosa è dato il colore il colore bianco del latte è dovuto alla presenza di grassi mentre il colore rosso del sangue è dovuto alla presenza di emoglobina a livello del soltanto di dei globuli rossi quindi non di tutte le cellule del sangue ma dei globuli rossi latte e sangue sono fluidi di origine molto diversa e il latte è una secrezione il sangue invece è un tessuto il latte è un alimento è un'emulsione è un'emulsione con globuli di grasso di dimensione molto variabile da 0,1 a più di 10 micrometri a seconda della specie animale il latte ha diverse componenti la cui quantità varia considerevolmente ad esempio la percentuale dei grassi raggiunge valori molto alti nei mammiferi archiodattili dei climi freddi o nei mammiferi marini in genere nelle foche e nei cetacei si raggiungono valori superiori al 50 per cento che cosa contiene il latte innanzitutto l'acqua è il componente principale circa l'ottantacinque per cento e i grassi costituiscono la fonte principale di energia e soprattutto sono grassi saturi e naturalmente ci sono anche proteine e carboidrati e zuccheri come il lattosio la percentuale di questi nutrienti cioè proteine grassi e zuccheri sono variabili fra varie varie tipologie di mammiferi compreso compreso l'uomo i glucidi cioè gli zuccheri presenti nel latte sono costituiti in tutte le specie animali per la quasi totalità della glucidi appunto dal da uno zucchero che è un disaccaride cioè è dato dal dall'unione di due zuccheri semplici di due monosaccaridi questo disaccaride si chiama lattosio ed è costituito da galattosio e glucosio come vediamo nel nello schema che sono legati da un legame 1 4 beta glucosidico per scindere durante la digestione del dell'alimento latte per scindere il il lattosio occorre un enzima che si è un enzima lattasi che è un enzima inducibile le proteine sono invece per due terze rappresentate dalla famiglia delle caseine oltre alle caseine ci sono proteine del del siero che sono di elevatissimo valore nutrizionale biologico e in genere sono termolabili sono sintetizzati nella ghiandola mammaria come appunto proteine del del siero la beta lattoglobulina l'alfa lattoglobulina e la lattoferrina e altre proteine si trovano si possono trovare nel nel latte ma sono di origine extra mammaria come le immunoglobulina inoltre nel nel latte ci sono enzimi tra cui l'iso zima che ha un'importante funzione perché è una ha un'attività antimatterica ci sono poi sali minerali in forma solubile insolubile calcio e magnesio si trovano nelle miscelle di caseina e poi ci sono vitamine che sono liposolubili come la vitamina a la i e la k e vitamine idrosolubili come la c la b2 e la b9 ci sono anche vitamine in quantità minori del gruppo b la vitamina pp la colina e la e la biotina e anche presente anche la vitamina liposolubile di minore quantità ecco perché non l'ho inserita al nel gruppo appunto delle vitamine liposolubili il latte si diceva che è una secrezione e il processo di secrezione una delle specializzazioni in cui sono implicati gli epiteli che formano le unità funzionali delle delle ghiandole in questo caso unità funzionali delle ghiandole come ghiandole salivari come il vegato come la ghiandola mammaria in questo in questo caso e la ghiandola mammaria è una ghiandola esocrina formata molto complessa si chiama tubulo alveolare composta vediamo uno schema della ghiandola mammaria e il prodotto di secrezione è drenato attraverso un dotto ramificato attraverso che poi conflui confluisce per i vari vari gruppi di alveoli confluisce poi in un unico dotto escretore la fuoriuscita del latte avviene a livello di una struttura chiamata capezzolo che coevolve nei mammiferi cioè volve insieme al al labbro carnoso quindi c'è proprio si assiste ad una evoluzione sincrona del della possibilità quindi del del piccolo mammifero di succhiare il latte alla mammella della propria madre qui vediamo un una mammella con una ghiandola mammaria umana il corpo ghiandolare formato da lobi ciascun lobo è formato da lobuli quindi strutture organizzate sono sotto organizzazioni del lobo e ciascun lobulo quindi è un gruppo di alveoli che contengono cellule secernenti che confluiscono il latte dopo averlo prodotto naturalmente indotti lattiferi o dotti galattofori uno per ciascun lobo il dotto galattoforo o lattifero sbocca in superficie in corrispondenza appunto di questa papilla dermica chiamata capezzolo la cosa interessante è che il latte appunto viene prodotto da questi alveoli del stagliando la composta a due tipologie di secrezione a seconda della composizione chimica del della secrezione stessa può avvenire una secrezione merocrina per quanto riguarda la parte proteica e per i lipidi invece abbiamo una secrezione apocrina cosa vuol dire questo che le cellule nella secrezione merocrina rilasciano soltanto soltanto il prodotto di secrezione quindi avverrà una produzione di proteine circondate da vescicole queste vescicole arrivano in prossimità della membrana plasmatica e fanno fuoriuscire il prodotto di secrezione nella secrezione invece apocrina che riguarda appunto i lipidi è tutto l'apice del della cellula che viene secreto insieme al contenuto lipidico quindi pezzi di cellule si avviano al nel fluido che chiamiamo appunto latte quindi due diverse tipologie di di secrezione latte e mammelle sono diventati protagonisti nel diciottesimo secolo quando il biologo svedese Linneo tutti sicuramente conoscete iniziò a classificare le specie in in gruppi in base ai loro tratti caratteristici Linneo si rese conto che una serie di animali compresi gli umani allattano quindi si rese conto di una caratteristica veramente importante di questi animali che Linneo chiamò mammiferi questi animali chiamati mammiferi hanno sono caratterizzati dall'avere tutti quanti ghiandole mammarie e Linneo appunto chiamò questi animali mammiferi che significa che allattano quindi la caratteristica principale dei mammiferi uno potrebbe pensare che la caratteristica dei mammiferi sia la viviparità i mammiferi partoriscono figli piccoli piccoli figli vivi quindi non non fanno le uova questo in realtà non è vero per tutti i mammiferi e infatti qui vediamo l'echidna e l'ornitorinco che fanno parte del gruppo dei mammiferi chiamati monotremi che non partoriscono figli vivi non sono vivipari ma fanno le uova quindi sono dei mammiferi ovipari e però li consideriamo assolutamente mammiferi perché anche questi hanno delle ghiandole mammarie le ghiandole mammarie ancora molto semplici non c'è ancora un un capezzolo infatti il labbro carnoso nelle chidna e nell'ornitorinco non c'è e c'è una struttura che assomiglia molto di più a un becco piuttosto che un labbro carnoso e la ghiandola però la ghiandola mammaria esiste è associata al al pelo e quindi i piccoli di dei monotremi delle chidne dell'ornitorinco succhiano questa secrezione a livello del della fuoriuscita dei dotti della ghiandola mammaria che assomiglia un po una ghiandola sudorifara il latte abbiamo detto anche prima varia la propria composizione chimica a seconda delle il vertebra del mammifero preso in considerazione e le foche dal cappuccio producono latte per il loro cucciolo e che è molto più grasso di una di una ricca crema quindi questo chiaramente è come difesa dal clima freddo balene e delfini allattano il seno al al seno i loro piccoli e anche i i pipestrelli che sono parte del gruppo dei chirotteri producono latte quindi anche mammiferi che ci sembrerebbero un po più strani rispetto a cane gatti elefanti rinoceronti umani allattano quindi sono proprio accumulati da questa caratteristica quindi possono essere veramente considerati tutti con questo carattere comune quindi ghiandola mammaria produzione del latte oltre ad avere un'altra caratteristica molto importante che è proprio peculiare dei mammiferi sulle mammifere che è quella di avere i peli qui vediamo una bella immagine di un marsupiale nella tasca nel marsupio del della madre che sta nutriendosi di latte attaccato ad ad un capezzolo quindi ad una ad una ghiandola mammaria che sta producendo il latte e notiamo che nei marsupiali pure sono che sono mammiferi però la viviparità si sta evolvendo non è ancora completamente non ha completamente raggiunto diciamo lo stato di di evoluzione che troviamo nel in altri mammiferi per cui il piccolo viene partorito in una forma che ancora è immatura molto immatura e quindi il piccolo ha bisogno di stare nella tasca marsupiale e nutrirsi di questa secrezione del latte prima di avere una una vita autonoma le ghiandole del latte in tutti i mammiferi esclusi i marsupiali monotremi quindi i mammiferi che chiamiamo euteri le mammelle si sviluppano lungo una linea del latte qui vediamo un reale femmina che ha le mammelle tutte su una stessa linea chiaramente poi è doppia e qui vediamo uno schema che rappresenta una femmina di specie umana quindi le mammelle si sviluppano lungo una quella che si chiama linea del latte che si stende su ciascun lato della pelle ventrale del del tronco dalla radice dell'arto anteriore a quella dell'arto posteriore e anche nell'uomo appunto la mammella si posiziona questa in questa linea nella in una posizione che va dalla dalla radice dell'ascella al tubercolo pubico e il numero e la localizzazione delle ghiandole mammarie e dei capezzoli è in stretta relazione con il numero dei dei neonati partoriti il latte abbiamo visto che è un alimento quindi questo colore bianco ci ha accompagnato per descrivere il latte e la struttura che lo secerne e abbiamo visto che è un alimento anche molto importante molto ricco in in grassi proteine e zucche ma anche il sangue un alimento quindi il colore ci riporta ad una stessa funzionalità se è un alimento e qui vediamo un un vampiro naturalmente è un personaggio di fantasia ma i vampiri invece esistono davvero infatti ci sono dei dei pipestrelli dei chirotteri come vediamo in questa immagine questo si chiama vampiro di di azzara che è diffuso in america centro meridionale e si nutre esclusivamente di sangue di altri vertebrati in particolare di animali domestici che è prelevato attraverso dei morsi inferti con affilatissimi incisivi e addirittura evita questo pepistrello evita la coagulazione del sangue attraverso una glicoproteina anticoagulante che è nota come draculina contenuta nella nella sua saliva ma anche molti artropodi sono ematofagi cioè si nutrono di sangue quindi il sangue può essere un alimento il sangue contiene proteine contiene nutrienti importanti e e quindi ci sono diversi artropodi rappresentati come vediamo in questa immagine per la maggior parte da insetti ma abbiamo anche qui un un esemplare di una di una secca che non fa parte degli insetti ma fa parte del grosso gruppo grosso film degli artropodi e questi questi animali sono importanti dal punto di vista proprio anche della patologia umana o veterinaria perché molto spesso sono vettori di microorganismi ma anche di microorganismi eucariotici cioè di di protozoi che causano varie malattie un esempio di insetti che succhiano il sangue che sono proprio veramente adattati a succhiare il sangue sono i pidocchi addirittura guardiamo le unghie di questi di questi insetti che servono proprio per attaccarsi a capelli e a peli abbiamo la scimice abbiamo il flebotomo flebotomo spapatasi che porta un vettrice di una malattia molto importante che la legge magnosi il il tafano che semplicemente tra virgolette prelevando il sangue può portare diverse di può inserire nel circuito ematico umano degli animali che che colpisce diversi batteri ma forse la cosa che tutti conosciamo più da vicino è la la malaria cioè l'anopheles la le zanzare del genere anopheles riescono a trasferire un protozoo che si chiama plasmodio che è il l'agente che causa appunto questa gravissima malattia poi abbiamo la flossina morti tanto c'è anche questa ematofaga la scimice dei letti e poi come detto prima non un insetto ma un un altro artropode che è la la zecca il sangue ha una composizione che comprende una parte cellulare e una parte invece non cellulare la parte che non comprende le cellule e che si può notare dopo centrifugazione e si chiama plasma e il sangue a differenza del secrezione latte non è assolutamente una situazione ma è proprio un vero e proprio tessuto un tessuto liquido e il suo colore rosso è dato da dai globuli rossi cioè da cellule che contengono una proteina particolare che si chiama emoglobina che a sua volta comprende un gruppo non proteico che contiene ferro e che è responsabile di dare il colore rosso proprio al a tutto il sangue questo perché perché i globuli rossi ovvero gli eritrociti rappresentano la stragrande maggioranza della parte cellulare del sangue vedete che comprende circa 45 47 per cento del volume del sangue i globuli rossi rappresentano praticamente la quasi totalità delle cellule il plasma contiene acqua proteine lipidi glucosio aminoacidi ioni e fra le proteine abbiamo le albumine le globuline e il fibrinogeno che serve per la coagulazione del sangue e come dicevo prima gli eritrociti sono il la maggior parte delle cellule del sangue e sono chiamate anche globuli rossi perché hanno una particolarità nei mammiferi cioè sono prive di nucleo quindi sono globuli quindi sono delle cellule globose ma schiacciate al centro proprio perché mancano di questa struttura poi ci sono in minore quantità i cosiddetti globuli bianchi che alcuni dei quali contengono granuli quindi sono chiamati granuloscite e altri non contengono granuli fra le cellule bianche del sangue che non contengono granuli ci sono i linfosciti e i monosciti che hanno questi ultimi la capacità di diventare macrofagi a livello del tessuto connettivo qui vediamo i globuli rossi al microscopio elettronico a scansione con questa forma a disco biconcavo che ne sono circa 5 milioni per millimetro cubo nella specie umana quando invece i globuli bianchi rappresentano 5.000 10.000 quindi vediamo che sono un millesimo rispetto alla quantità del delle cellule rosse come vi ho fatto notare prima i globuli rossi non solo quelli umani ma dei mammiferi mancano di nucleo invece in altri vertebrati le cellule rosse hanno il il nucleo quindi qui vediamo uno striscio di sangue di rana in cui appunto vediamo i ritrosciti nucleati ma non solo negli anfibi ma anche nei rettili negli uccelli e nei pesci le cellule sono le cellule rosse sono tutte nucleate anche se il nucleo non è attivo quindi nei mammiferi si assiste proprio a una espulsione di questo di questo grosso organolo cellulare durante la maturazione dei dei globuli rossi che quindi che nella specie umana dura circa sette giorni e avviene nel midollo osseo e poi i globuli rossi maturi o quasi maturi in questo caso si chiamano reticolosciti presenti in minima parte vanno nel circolo sanguigno nel circolo tematico la struttura dell'emoglobina che vediamo in questa immagine è quella della di una proteina che ha una struttura quaternaria quindi fatta da quattro polipeptidi e ognuna di queste catene polipeptidi che si chiamano globine queste catene polipeptidi che ci sono due globine alfa e due globine beta ognuna di queste globine porta un gruppo che si chiama prostetico cioè un gruppo non proteico che è un gruppo eme e l'eme vediamo questa molecola schematizzata è un una porfirina che contiene un atomo di ferro e questo questo gruppo conferisce il colore rosso questo questo gruppo eme si trova anche non solo nell'emoglobina ma anche nella mioglobina che si trova nei muscoli e nei citocromi che si che sono proteine che si trovano nei mitocondri e la cosa interessante che una struttura simile a quella del leme è simile alla porfirina è la struttura che troviamo nella clorofilla vediamo questa molecola che ha al centro un atomo di magnesio invece che avere un atomo di ferro quindi la clorofilla che troviamo nel nel cloroplasto di una delle cellule vegetali ho finito questa breve presentazione e vi lascio se volete poi prendere le le referenze da cui sono state tratte alcune informazioni e le immagini e vi ringrazio per l'attenzione arrivederci